Siamo un po' in ritardo, proprio vago, sono le ore, guarda un po', sono le ore 19 e 44, avevo appuntamento alle 18 per il servizio fotografico, adesso andiamo a citofonare al mio fotografo che è Stefano Conte e insomma vedremo un po' e ci faremo un po' di risate. Ok, perfetto, appoggiatevi qui dove volete, tanto è tutta la vostra... Vedi, tutto chiuso per noi? Tutto quanto. Adesso cominciamo con il trucco, anche se pochino perché comunque se no si perde l'effetto naturale che mi piace mantenere fino a quando sono giovane, che bello. Vabbè, adesso non esageriamo. Comunque da stamattina mi è cresciuta la barba. Cioè adesso... È vero Mauro, è vero. Ma subito! Sì, sì. Io pensavo che mi hai chiesto la foto con la merda. No, 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 ho giocato intera cresce la barba. Pensa che per lo spot balocco me l'hanno fatta fare la mattina e la sera. Che male ho Vedete ma ragazzi ma voi siete fuori Dovevo girare anche il giorno dopo Ho detto domani non ci sono un'altra Dovete prenderne un'altra Non avrò la stessa faccia E ho usato Una cosa un po' particolare Che si chiama Prerasatura Tipo una sorta di Di polverina Che prepara la pelle Ma come sta? Il polverino in sedia Per niente Utilissimo Infatti c'è io ero scettico Guarda che Fidati vi ho detto Fidati Che qua facciamo un casino Mi mandano a casa Perché c'avano un'altra fa sanguinerò A Zampini No fidati tu C'avano la ragione lei Ok come sto? Bene Le maniche Ah io non posso vedere Uno due Uno Lascia pure i suoi Questo è il potere Allora c'è una teoria Magari qualcuno può scrivere E può dirci qual è la teoria giusta Allora teoricamente dovrebbe portare fortuna Il faro di cavallo orientato O in giù o in su Mi dissero che porta fortuna Se guarda in alto Perché la sfiga entra E quindi può uscire e andare via Invece se è messo così Teoricamente la sfiga Dal basso ritorna Capito? Quindi io lo tengo così Per questa cosa che vi ho Viena spiegato Corfatto Un po' meglio la figura sui tre quarti A mezzo gusto Sì sì ma adesso ci lavoriamo Dunque Facciamo Stefano facciamo proprio degli scatti Ta 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 Potete dimasticarlo? Sì sì ma adesso ci lavoriamo Sì sì ma adesso ci lavoriamo Sì sì ma adesso ci lavoriamo Oh, ok, mi insina a fare un nuovo trovato. Ok, cosa è che devo fare? Oh, ok, mi insina a fare un nuovo trovato. Oh, ok, mi insina a fare un nuovo trovato. Sì, questa qua mi sembra anche abbastanza un po' bors, 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 bors. Ok, allora, come sta? Pappacucco? Vale? Fioietta? Grazie. 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 Grazie.